Certo, Sant'Anché, vengo un attimo da lei, però davvero, sintesi, perché vogliamo che parlino tutti. Dovrebbe forse rivolgersi a qualcun altro. Comunque detto questo, no no, così glielo ricordo anche a lei, detto questo io volevo semplicemente dire che nessuno admette che non c'è questa pandemia, nessuno dice che non bisogna avere dei comportamenti responsabili, nessuno dice che non bisogna tenere le distanze, mettere la mascherina, lavarsi le mani. Noi diciamo una cosa altra, noi diciamo che a questo punto, dopo 14 mesi, e siccome siamo messi molto peggio rispetto a pochi mesi fa o un anno fa, nonostante questa campagna vaccinale che sta andando avanti e mi auguro sempre più velocemente, mi auguro che arrivino i vaccini, che il governo ha un altro compito oggi, che è quello di dare dei protocolli, anche più severi, di fare i controlli, dare delle sanzioni, ma non può più decidere sulla libertà di impresa, cioè di apertura e di chiusura delle attività e sulla libertà individuale di ogni cittadino, perché oggi stiamo messi peggio di prima, nonostante i vaccini. E poi volevo dire soltanto una cosa, per non fare terrorismo, bisogna far parlare le persone competenti, bisogna far parlare le persone di scienza, le persone che stanno in corsia, le persone che hanno curato, e io ringrazio tutti i medici che sono stati, gli infermieri, tutti quanti, che sono stati straordinari, e smettere di dire cazzate, perché io non sono un medico, in italiano invece che in francese, esatto, così forse si possono capire, io non sono un medico, non sono un virologo, io faccio il politico e dico quello che sarebbe il compito del governo oggi, non mi permetto di dire altro perché non è il mio mestiere. Allora...